Quest'anno è nata questa collaborazione tra Lunardini Skills Camp e Fisiokinetica il tutto con l'obiettivo di cercare di dare ai ragazzi la migliore proposta possibile anche per quanto riguarda la salute, quindi non solamente il massimo per quanto riguarda la tecnica individuale e il calcio in genere e quindi è nata questa partnership sulla quale credo fortemente perché credo che possa aiutare tanti ragazzi a crescere. Siamo partiti lunedì scorso qui a Rivazzurra, resteremo qua per tre settimane e poi successivamente ci sposteremo a Viserba a fine luglio. Devo dire che sono molto contento perché siamo partiti alla grande abbiamo riempito i posti disponibili per le settimane di Rivazzurra e niente, è rimasto ancora qualche posto per Viserba però devo dire che a prescindere da questo sono molto contento che i ragazzi si stanno impegnando tanto, vengono con grande entusiasmo e con voglia di imparare. Il camp Lunardini Skills è basato sull'insegnamento delle tecniche individuali e tecniche di uno contro uno e attraverso delle esercitazioni prima analitiche, ossia senza pressione dell'avversario si riescono ad apprendere meglio tutti i gesti tecnici individuali. Poi successivamente, nella seconda parte della mattinata, tutte queste abilità, queste skills vengono testate in degli uno contro uno, dei due contro due e nella partita finale. La cosa bella che si crea qui a Lunardini Skills Camp è sicuramente il fatto che diventiamo quasi come una squadra quindi c'è grande affiatamento tra i ragazzi, c'è grande divertimento, c'è grande sintonia tra noi dello staff e gli allievi e quindi si crea un ambiente di lavoro estremamente positivo. Ogni giorno io e il mio staff monitoriamo attentamente i ragazzi e la loro crescita e alla fine di ogni giornata decretiamo il premio Man of the Match che consiste appunto nella premiazione del giocatore che si è distinto non solamente nell'ultima partita ma in generale in tutta la giornata. Devo dire che i ragazzi in questo modo sono altamente stimolati a fare bene anche perché poi a fine di ogni settimana ci saranno anche altri premi come il miglior gol, come il premio Non mollo mai, come il premio migliore esultanza e altri premi e quindi tutte le settimane e il venerdì ogni vincitore riceverà una coppa per questo premio. Oggi con grande soddisfazione posso dire che abbiamo aggiunto tra le nostre tante società o associazioni convenzionate un'eccellenza nel mondo del calcio giovanile che è la scuola calcio di Francesco Lunardini, Lunardini Skills. Eccellenza data soprattutto dal pedigree di Francesco che non ha bisogno di commenti tra l'altro ho saputo, mi dicevano proprio che è uno dei pochi personaggi nel mondo del calcio che si può vantare di essere un maestro di tecnica. Per questa occasione, vista anche l'amicizia che ci lega a Francesco abbiamo provato una novità che era in cantiere che poi la pandemia ci ha un po' rallentato che era quella di esportare la visita, la visita del progetto prevenzione anche fuori dalle mura di fisiochinetica e renderla anche più dinamica. È stata una bellissima esperienza che sicuramente ripeteremo e che ci dà anche modo di arricchire la visita con parametri sempre più diciamo veritieri perché così siamo anche in grado di vedere i ragazzi nel loro habitat, nella loro gestualità e riusciamo a interagire molto molto meglio con gli allenatori. Abbiamo valutato vari parametri tra cui altezza e peso, abbiamo valutato l'equilibrio, quindi le capacità di equilibrio bipodalico-monopodalico, abbiamo valutato l'elasticità della catena posteriore in flessione anteriore, quindi in bending, piegandoci verso il pavimento, facendo piegare i ragazzi verso il pavimento e abbiamo valutato l'elasticità di flessori principalmente, quindi sempre della catena posteriore. Queste sono state le valutazioni principali divise in tre, quindi eravamo tre operatori, ognuno valutava un aspetto diverso.